Buonasera, spettatori e spettatrici di Fuori Onda. Io sono Susanna Basile, vicepresidente di Naos Edizioni. Questo è un format che noi facciamo già da un po' di tempo, dove intervistiamo delle persone meravigliose che decidiamo di ospitare. Questa sera è il turno di Giussi Liuzzo, presidente dell'Archeoclub di Catania, che salutiamo e diamo subito a lei la parola per presentarsi. Vai Giussi. Ok Susanna, buonasera, buonasera a tutti. Allora, così come ha detto Susanna, sono presidente dell'Archeoclub di Catania da 46 anni. Non che ho portato Archeoclub in Sicilia, quindi il primo è stato quello di Catania. Sono anche consigliere nazionale di Archeoclub d'Italia, perché la nostra è una grossa associazione nazionale, è un APS, cioè un'associazione di promozione sociale. E in Italia abbiamo tantissime sedi, molte, molte. In Sicilia ne abbiamo 50, quindi parecchie persone che si interessano all'arte e alla cultura. Però premetto Susanna che all'Archeoclub si può iscrivere chiunque, non bisogna essere tecnici, chiunque viene si può iscrivere. È aperto a tutti, perché la cultura è di tutti, non la possiamo precludere. Io mi ricordo che ho conosciuto diversi anni fa e la prima volta sono arrivata alla scuola, alla Pizzigoni, dove voi vi vedete ogni mercoledì, giusto? Normalmente nel pomeriggio. Ero venuta a intervistare forse il professore Enrico Caltagirone che riguardava… Sì, sì, Caltagirone, sì. Sì, sì, quella volta, infatti anni fa, che si occupa appunto di storia della… Storia della Sicilia e poi glottologo della lingua, anche dei siculi, la nostra lingua diciamo, da dove provengono i siculi. Caltagirone è bravissimo in questo e noi l'abbiamo ospitato diverse volte e abbiamo ospitato tanti nomi, professoroni, ma anche professori, anche non professori. Cioè, l'Archeoclub parla chiunque ha qualcosa da dire, chiaramente, sul tema dell'arte e della cultura. Non bisogna per forza essere chissà chi per trasmettere agli altri qualcosa di positivo che magari tu sai e gli altri non lo sanno. No, ma io infatti stavo completando questo discorso che ero venuta per intervistare Enrico Caltagirone, professore, che tra l'altro quello che mi piace di voi è che ospitate sia professori accademici e sia non accademici, per essere, diciamo, precisi, no? C'è anche quelli un po' controcorrente, no? Che comunque hanno qualcosa da dire ma di qualità, no? Certo, chiaro. Eh, io ero venuta per intervistarle e poi andarmene perché ho pensato, vabbè, poi ci saranno le solite, come si suol dire, polpette. Invece no, ogni volta che vengo, anche l'ultima volta, l'ultimo mercoledì, c'è una fascinazione incredibile perché, a parte te che sei favolosa veramente, ma non detto per piageria, proprio per, parlo di, come si dice, per presenza, per affascinazione, per affabulazione, ma poi anche le persone che vengono, tutti soci, che non sono ragazzi, ma sono persone che hanno una competenza, una cultura bella, effervescente. Ecco, cioè, la cosa più bella che io ho notato nell'Archeoclub è il fatto che siete tutti quanti gioiosi, creativi, no? Anche gli interventi non sono mai noiosi. Come succede questo, Giussi? Guarda, me lo dicono in tanti, non sei la sola a dirlo, e io ti dico una cosa, cerco di inculcare i miei soci, alcuni sono soci da 20 anni, da 18 anni, altri sono soci da un anno, due anni, ma molti sono vecchi soci, cioè soci proprio da tantissimi anni. Quello che è il mio modo di vedere, di fare, cioè di guardare intanto in positivo, di accettare tutto quello che di nuovo arriva, magari che ti svalordisce, valutandolo e cercando di capire di più su quell'argomento. Di fatto talvolta inserisco delle conferenze un po' particolari, dove la gente, magari i soci rimangono un po' perplessi, però poi ci riflettono e riprendono l'argomento, lo allargano, lo ampliano, cioè hanno questa sete, non vengono al club per scaldare le sedie o per giocare a carte, vengono al club intanto per incontrarsi fra di loro e quindi scambiare fra di loro. E poi proprio per acquisire qualcosa di nuovo, di buono e quindi farla crescere dentro. Questa è la cosa principale, diciamo, che c'è da noi. Io quanti siete? Perché l'ultima volta che sono venuta per il libro, quello di Bonferrato, quello sulla Pasqua, almeno 80 persone. Sì, sì. No, noi come soci, guarda, siamo una cinquantina di soci, però, attenzione, se si iscrive il marito, viene la moglie, cioè non facciamo iscrivere tutte e due. Quindi a cinquanta soci più o meno sono cento persone, ecco, il doppio. Poi vengono amici, parenti, conoscenti, gli alunni. L'auditorium della Pizzigoni Carducci è sempre pieno, sempre, ogni volta è pieno. E di fatti i relatori si meravigliano. Anche nei periodi di magra, cioè nei periodi post-covid, quando nessuno faceva niente, noi abbiamo continuato, io ho continuato l'attività. Cioè abbiamo continuato con meno persone, con tutte le precauzioni che c'erano allora, però abbiamo continuato. Ed è stato l'unico club a Catania che ha continuato l'attività culturale, sempre. Io volevo leggere alcuni titoli, anche se già le conferenze ci sono state, però tanto per avere un'idea, proprio per il tipo, diciamo, di apertura. Allora, leggo che qui, la Roma imperiale e la Cina enne, tecnologie e chiavi di civilizzazione a confronto nel mondo antico. Quindi, conferenza del professore Carlo Ruta. Carlo Ruta, è un grosso nome Ruta, è uno storico che fa conferenze e seminari in tutte le università d'Italia. Però quando esce un libro suo nuovo, una ricerca nuova, mi chiama, mi telefona, lo vuole presentare all'archeoclub di Catania, perché dice che gli porta bene, che noi siamo tutti propensi verso l'argomento e poi se lo va a gironsolando per l'Italia l'argomento. Poi ne ho visto un altro, questo, che ci sarebbe voluto essere la città sepolta, politica e istituzione degli ebrei a Catania del XV secolo, che è l'autore Giuseppe Cerra, dove è venuto il professore Davio Stazzone, che è il presidente della società D'Andia Lighieri, a presentare il libro, giusto? Sì, guarda, è stato meraviglioso, perché ha parlato degli ebrei a Catania, che è poco conosciuto l'argomento. Sì. Ha parlato, Cerra è molto giovane, e questa è la sua tesi di laurea, quindi abbiamo fatto parlare un professore giovane con una tesi di laurea interessantissima, e poi Dario Stazzone ha presentato l'argomento in una maniera proprio avvincente, ecco, proprio avvincente. Sì, questo. Per esempio, abbiamo parlato ultimamente di San Berillo, San Berillo è il nostro quartiere di San Berillo, che veramente è un quartiere poco conosciuto, ormai sconosciuto quasi, e abbiamo un'altra conferenza nel programma di aprile, di maggio, credo, sempre su San Berillo, presentando il quartiere com'era, com'era una volta, ecco, questo ha incuriosito molti, e molti insomma stanno aspettando la seconda parte del San Berillo. Sì, perché voi avete fatto San Berillo a storia di un quartiere marginale al centro di Catania, con la professoressa Mariella Bonasera, quindi è sempre lei che fa l'altra... Nono è un'altra collega di Mariella, che ha fatto pure con lei studi su San Berillo, e presenterà la seconda parte di San Berillo, cioè vista da lei, da questa nuova relatrice. Le persone che ci stanno ascoltando, per sapere qual è il prossimo programma, possono andare sulla pagina Facebook, giusto mi pare? Sì, andiamo sulla pagina Facebook Archeoclub Catania, dove c'è tutto quello che facciamo, ci riuniamo tutti mercoledì pomeriggio, da ottobre a maggio, alle 17, nell'auditorium della scuola Pizzigoni Carducci, e può venire chiunque, anche se non siete soci, venite, ascoltate, se vi piace rimanete, sennò venite andate, perché io penso che rimanete. No, no, ma non lo so, cioè ti ripeto, io ci ho provato ad andarmene, poi non ci riesco, perché poi anche il pubblico, l'altro giorno quando abbiamo fatto quella della storia delle Pasque in Sicilia, quel bellissimo libro, tu stessa mi hai detto che al pubblico si è alzato quel signore a parlare della Pasqua a Catania, che non è molto pratico. Non è molto conosciuta a Catania, sembra che la Pasqua non si festeggi, dal punto di vista usi popolari, tradizioni, liturgie, mentre invece quel signore, e questo signore poi lo inviterò un'altra volta, più in là, a parlare dell'argomento specifico, cioè di Catania, delle feste religiose a Catania. Visto, hai capito che quello che vogliamo trasmettere appunto è questo discorso qua, che la cultura è qualcosa di, come si dice, di flessibile, che cresce, e se non fosse stato per l'Archeoclub, io almeno ho sentito le mie orecchie, tra te e l'archeologa Maria Teresa Di Blasi, che era come relatrice lo scorso mercoledì e che avete raccontato come, iniziando più di 40 anni fa, dove i turisti che venivano a Catania, all'aeroporto di Catania, utilizzavano Catania come transito, o per andare all'Etna o per andare a Taormina. Mentre con questo lavoro che avete fatto voi, che è un micro macro lavoro, in qualche modo cosa è successo? Abbiamo fatto capire ai politici, prima di tutto, perché sai che Catania ha tante cose da vedere, da valorizzare, e io addirittura ho scritto un libro per poter mandare alla memoria dei posteri che molti monumenti che oggi sono aperti, fruibili e godibili, sono il frutto delle mie battaglie, cioè il Museo Diocesano, le terme della Rotonda. Io da 40 anni mi batto per i monumenti di Catania. Finalmente pare che ce l'abbiamo fatta, ecco, cioè che hanno capito l'importanza di Catania città d'arte, e quindi non Catania aeroporto di smistamento. E sì, con Teresa abbiamo fatto tante belle cose e li continueremo a fare. Abbiamo raccolto sempre gente inguriosita, affamata di sapere. Vengono così come hai fatto tu tanto per, e poi magari rimangono, ritornano, perché si trovano bene. Dicono loro. Poi tu organizzi anche dei viaggi, questo c'è da tantissimi anni ormai. Da più di 30 anni organizzo gitarelle domenicali, ne abbiamo una domenica 16 aprile, domenica prossima. Andiamo qua vicino a due passi, a San Filippo, alla Reitana, a vedere le terme di Santa Venera al Pozzo, che le hanno ristrutturate, il parco archeologico, ma facciamo anche gitarelle più lunghe e viaggi. Abbiamo girato il mondo. In 30 anni abbiamo girato, io lo dico veramente, siamo stati a est, a ovest, in oriente, in America, quindi abbiamo fatto dei viaggi molto belli. Viaggi che sono prima programmati, spiegati, presentati e poi effettuati. Quindi goduti veramente, non il viaggetto, tanto per andare a fare qualcosa. Quindi c'è di nome di fatto Archeoclub proprio a tutti gli effetti, anche per quanto riguarda per esempio le tragedie a Siracusa. Andremo a Siracusa per le tragedie greche ogni anno. Ogni anno io porto il gruppo a Siracusa, chi vuol venire, a vedere almeno due tragedie, perché anche quella è cultura. Porto tutti gli anni, tranne quest'anno no, a Pasqua a vedere i riti pasquali della Sicilia, perché guarda che sono bellissimi. In Sicilia, l'hai visto l'altra volta, quante cose belle da vedere a Pasqua. Si sono sovrapposte tutte queste culture, arabo, normanna, sveva, e quindi hanno lasciato, spagnola, hanno lasciato ognuna la sua traccia. E abbiamo visto cose veramente belle, meravigliose. E i soci talvolta mi dicono, Giussi, ci hai fatto conoscere cose incredibili. Anche della Sicilia, domenica per domenica, gitarella su gitarella, abbiamo sviscerato gli angoli della Sicilia, portando a conoscenza cose che magari, ma da qui c'è, cosa c'è, non c'è niente, non è vero, c'è. E c'è da vedere, da conoscere, da sapere, da acquisire, ecco. Ma infatti io per questo volevo oggi intervistarti, da questo punto di vista, io ve lo sentivo come una cosa doverosa, da questo punto di vista, perché ogni volta che ti vedo, ti vedo, sì, fai la presentazione, ma voi tu, saggiamente, come tutte le persone veramente profonde, che hanno una cultura profonda, come si suol dire, ti metti di lato e c'è il relatore della serata. Che non è una cosa facile, nel senso che io mi rendo conto che organizzare mercoledì per mercoledì, sempre delle, anche per esempio quest'altra, dal mito di Iside, ai riti di Sant'Aga, la conferenza del dottore Enrico Licciardello, quindi aveva argomento. Enrico Licciardello è un medico in pensione, non è un archeologo, non è un chissà che, però è uno studioso, perché andando in pensione si è dedicato ai culti della Sicilia e ci ha fatto un ciclo di conferenze, tre, sui culti, cioè sulle tradizioni popolari, ed è un medico, non è un archeologo, un professore universitario, però anche lui ha dato il suo contributo. Quindi l'idea è questa, comunque che continua ed è vincente, prima di tutto perché tutto ciò che praticamente dovrebbe fare tra virgolette qualcun altro, diciamolo così, da questo punto di vista, che non dovrebbe essere, in ogni caso l'archeoclub, per carità, è un APS, ha questa funzione, anche come dici tu, in ogni comune, all'interno della Sicilia, in Italia, però in realtà non doveva essere, non doveva andare così, cioè non doveva essere un sostituto, da questo punto di vista, rispetto ad altre agenzie, però è andata così ed è avuto un grande successo, segno che le persone ne hanno bisogno, se sai parlare con loro, se sai portare gli argomenti giusti, con le persone giuste, la gente, la cultura gli piace, gli interesse. mi piace, e la cerca sai, la cerca veramente, io ho un segretario, che è bravissimo, che mi dà tanto aiuto, che è Sebastiano Bruno, che quando è venuto cinque anni fa, non sapeva, perché non aveva quella cultura classica, che abbiamo, era un operaio specializzato, vabbè, che non sapeva, la colonna dorica, la colonna ionica, la colonna corinzi, il tempio, ora tutto felice e contento, quando andiamo in gita, mi dice, la colonna è dorica, il capitello è iodico, quindi ha assorbito anche lui, qualcosa che non aveva, ma è felice di averlo, si è arricchito, diciamo, di questa conoscenza, quindi questo facciamo noi, in sostanza. Abbiamo lavorato, Susanna, tantissimo anni fa, nelle scuole, i concorsi nelle scuole, cioè se tu hai bambini, hai ragazzini, non fai capire l'importanza del passato, o dei monumenti, non lo capiranno mai da adulti, mentre se glielo fai capire da bambini, da scuola, allora poi saranno magari un domani, coloro che li preserveranno, li studieranno, li tramanderanno agli altri. Certo, ma il discorso è questo, non è solo capire, quello che fate voi, che li fate amare. Sì, amare, amare, trasmettere l'amore per l'arte. Capito, quello che voglio dire è questo, perché un conto è fare capire, e torniamo sempre al solito discorso, perché la cultura, questa è una delle cose su cui mi sto battendo, perché la cultura deve essere noiosa, cioè qual è il principio? No, 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 assolutamente, la cultura tu la devi dare, io sono un ex insegnante di storia dell'arte, avevo, insegnavo all'istituto d'arte, avevo gli alunni, che in genere, insegnanti, i miei alunni mi venivano appresso, portavo gli alunni a passeggio per Catania, ma per spiegare il barocco, per spiegare tutti i monumenti, glieli spiegavo a passeggio, li facevo divertire, però loro assorbivano, ecco, tu non glielo davo, sui libri, guardate, oppure, allora, 40 anni fa, non c'erano le diapositive, non si, non si proiettavano immagini per spiegare, erano libri, io ho fatto comprare al preside allora le prime diapositive, cioè proiettavo e spiegavo proiettando, cioè devi dare alle persone qualcosa per cui si appassionano a quello che stanno facendo, se no si annoiano e non concludi niente, è tempo perso. Certo, assolutamente, quindi per fare un riassunto di tutte e quante le attività in generale, noi, per il riassunto è, intanto, tutti i mercoledì pomeriggio conferenza culturale, per cui le persone vengono, si siedono, assorbono quello che sentono, vogliono le delucidazioni, tornano a casa e se lo cercano su internet, e si allargano poi la conoscenza, lo fanno in tanti, sai, poi me lo dicono, mi telefono, ne parliamo, ecco, queste conferenze, poi le gitte, le passeggiate per Catania, alla scoperta dei monumenti, Archeocleb, Giusiliuzzo, ma io dico Archeocleb, dai, non Giusiliuzzo, ha scoperto tante cose a Catania, te ne dico una che è importantissima, la Tegola e la Tomaia, sono le unità di misura del 700 siciliano, sono nel pilastro di sinistra del municipio di Catania, fuori sulla piazza Duomo, lì c'era una buca delle lettere, quelle rosse, quando 40 anni fa ho scoperto che lì c'erano incise, sotto la buca, ho fatto togliere con una lotta, che non ti dico, all'allora sindaco Magrì, la buca, e sono venute fuori Tegola, con cui si misuravano le stoffe, e Tomaia, con cui si misuravano le pelli, quello è un fiore all'occhiello dell'Archeocleb, sta a scoprire. Manco lo sapevo, vedi c'è anche un fiore all'occhiello dell'Archeocleb. Quando andrai a piazza Duomo la prossima volta, guardati il pilastro di sinistra del portone d'ingresso, c'è la targhetta, Tegola, Tomaia, Dona, Archeocleb Catania. Benissimo, già solo questo vale la pena, cioè vale la pena. Quindi, allora possiamo venire, perché mi ci metto pure io il mercoledì. Sì, tutti i mercoledì. Questo mercoledì, domani, domani mercoledì, abbiamo una professoressa, Mariolina, adesso il cognome mi sfugge, che parlerà della Sicilia, il Medioevo in Sicilia, e quindi pure importante come tema, diciamo. E' sempre fatto in maniera allegra, non in maniera barbosa, ecco, in maniera assorbibile da tutti, diciamo. Mariolina Cocuzza, Mariolina Cocuzza. Mariolina Cocuzza, benissimo. Allora, intanto salutiamo Giussi, per questo primo approccio, perché ci tenevo, perché mi faceva troppo piacere, darle proprio un discorso di, 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 un onore, per me è un onore. Grazie, sei troppo buona, di delucidazione di questo tema, diciamo. Questo tema, sì, che riguarda questo discorso qua, che Archeocleb, quindi arte e cultura, si può fare, e si fa con, eh, nello stesso tempo con grande, eh, piacere e grande lavoro. E grande lavoro. Sì, perché come tu dici, una conferenza ogni settimana, da ottobre a maggio, è un impegno grosso. Ma io lo faccio con gioia, lo faccio con gioia. che praticamente le registrate, c'avete un socio? Sì, le abbiamo quasi tutte registrate, ho un socio che le ha quasi tutte registrate, per cui abbiamo un patrimonio culturale, eh, online, diciamo, che possiamo, ora vedremo come fare per metterle, per utilizzarle noi, e farle utilizzare agli altri. Assolutamente. Stiamo studiando. Assolutamente. a disposizione, chiaramente, per quanto riguarda anche i nostri canali, se poi, un'olta che decidete di mettere online, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Come si può fare, appunto, Susanna. Grazie a te, salutiamo i nostri spettatori. I nostri, appunto, che ci ascoltano, e spero di vederti, e di vederli. Sono sempre ospiti graditi. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao.